Fin dall'inizio, Walt Disney ha stabilito una tradizione di innovazioni, dal primo lungometraggio animato al mondo, Biancaneve e i Sette Nami, alle nuove tecniche fotografiche introdotte nella carica dei 101, alla combinazione di animazione e attori veri in chi ha incastrato Roger Rabbit, alla strepitoso uso della tecnologia digitale re, la bella e la bestia, il re leone e Aladdin. Ora, la Walt Disney Pictures sta unendo le forze con Alex Patterson e Mark Silverman, i geni creativi di Camillo Cromo e l'arca del Titanic, per presentarvi uno dei film più straordinari e innovativi del nostro tempo. La strada per Eldorado. Prossimamente in tutti i migliori cinema. Dalla Walt Disney Pictures e Galta e Faggio Pictures. Grazie.